E siamo nuovamente in vostra compagnia, stiamo vivendo questo sai per sempre testimonial game. La serata d'addio a Dio ha sempre insito un significato di tristezza. È vero che da domani ufficialmente Franco Baresi non si metterà più le scarpette bulonate, però stasera è una festa, è gioia, è allegria, è divertimento e questo deve essere il sintomo di tutta la serata. Laura io ti chiedo... Parlo anch'io con sincera emozione.